Dici Picerno, dici continuità. I Lucani puntano a confermarsi anche in questa stagione e iniziano nel milione dei modi gelando per il secondo anno consecutivo il fortino della nuova Arredo Arena. La rete del subentrato di Hop nel segmento finale di partita rende amalo il ritorno di Alberto Villa a Francavilla, alla quinta sconfitta a cavallo tra i due campionati. Villa si presenta schierando il 3-5-2 in attacco Pollidoni artistico chiamati a non far rimpiangere Patierno. Nuova lucca la difesa con Accardi, Gavazzi e Montiagudo in una squadra che di fatti presenta otto novità rispetto all'undici tipo della passata stagione. Inizialmente fuori i colpi last minute Izzillo e Giovinco. Battesimo per Jacopo Murano nel 4-2-3-1 di Longo. Il classe 90 guida l'attacco del Picerno con De Cristofalo, Albadore, Graziani e Supporto. Panchina per Diop e per il grande ex Maiorino. Primo squillo targato Francavilla. Pulizione della tre quarti ma avvitamento impreciso di Montiagudo. Risponde il Picerno. Murano incrocia la posizione defilata ma palla out di poco. L'attaccante ci riprova 7 giri di lancette dopo ma con il destro non inquadra lo specchio. Aumenta con il passare dei minuti il tasso di pericolosità del Picerno. Alla mezz'ora Murano stacca in aria, forte tocca sulla traversa, palla ancora l'attaccante ex Avellino che calcia sull'esterno della rete. Non sono neanche fortunati Lucani. Al 43esimo Graziani va di prima in tensione col destro ma c'è un altro palo a salvare il Francavilla. Nonostante l'ottimo primo tempo Longo decide di cambiare. Dentro Esposito e Novella perde Cristofar e Pagliai. Successivamente Diop per Albadoro per un duo d'attacco pesante. Il Francavilla nella ripresa riesce a prendere le misure alle scolibande ospiti ma le sostituzioni danno ragione a Longo. Al 75esimo ha solo di Esposito per vie centrali. Terzo legno di giornata ma Diop è il più lesso di tutti a fare 1-0 a Porto ormai in custodita. Si gioca il tutto per tutto Villa. Dentro anche Zuppere e Jovinco ma la sostanza non cambia. L'unico reale pericolo portato verso la porta di Suma è questa punizione dello stesso Jovinco alta non di molto sulla traversa. Vince il Picerno e lo fa con merito sfoggiando la stessa freschezza mirata nello scorso campionato. I tanti volti nuovi non hanno invece aiutato Villa nella ricerca dell'amalgama giusta ma il Francavilla ha tutto il tempo per ripartire. Nel prossimo turno Benevento Virtus Francavilla e Picerno Taranto.